salve per la serie santi beati del giorno oggi parleremo di una figura poco conosciuta ma sicuramente dall'attività molto prospera ossia della beata maddalena caterina morano una figura appunto nata nella metà dell'ottocento in concomitanza con le attività di san giovanni bosco perché parliamo di lei soprattutto all'ombra dell'annunciazione parliamo di lei perché a mio avviso queste figure hanno una caratteristica particolare la prima di tutto una vocazione nata quindi ci sono delle cose in cui il signore mette in loro già una predisposizione purtroppo per fortuna in questa predisposizione come dire va ricercata la perfezione quindi non è detto che il signore ti invi su una strada quella strada poi sia pianeggiante anzi più delle volte c'è un faticosissimo discernimento per cercare di trovare quello che è l'obiettivo mirato l'obiettivo finale e più delle volte quando noi leggiamo le storie di queste consacrate o di questi consacrati ma anche delle persone che comunque rientrano nella santità troveremo sempre che vi sono delle difficoltà nel trovare il giusto punto d'arrivo per quello che riguarda i propri obiettivi o gli obiettivi che il signore ha posto il signore ci fa vedere una visione di insieme ma non ci fa vedere i dettagli i dettagli arrivano laddove noi siamo in qualche maniera istruiti quindi la compartecipazione tra la creatura e quello che sono tutti i mezzi che il signore mette a disposizione quindi le persone che ci stanno vicino i consacrati tutta questa situazione fa in modo che realmente la compartecipazione di tutta la creazione faccia in modo che la creatura possa trovare un compimento e non è un caso che questo succeda anche nelle anime sante nelle quali poi appunto non vi è un rapporto diretto con gesù laddove appunto vi è un rapporto diretto con gesù vuoi per fattori mistici vuoi per doni carismatici vi è anche un rapporto indiretto con lo stesso gesù perché comunque viene bypassato da quelle che sono le figure in qualche maniera sacerdotali che fanno da ispiratori direttori spirituali accompagnatori spirituali tutte quelle figure che appunto aiutano a essere nel discernimento e il caso di questa beata è appunto non dico emblematico però significativo di quelle che sono le realtà dei fatti vive all'ombra di san giovanni bosco e quindi di conseguenza lei oltretutto è stata è stata abbastanza istruita sul fattore religioso perché comunque avendo avuto vicino a lei una figura di consacrato riesce comunque ad avere questa a questa via privilegiata per poter essere così in stradata ma che cosa succede naturalmente lei è toccata dalla fede il più delle volte cosa cosa capita nell'anima delle persone che quando lo zelo è tanto alto allora cercano di chiudersi dal mondo e rientrare solo in un esclusiva di vita con gesù quindi il suo istinto primordiale quello di chiudersi in clausura e perché la sua la sua attitudine alla fede è talmente alta ma appunto la figura di san giovanni bosco la ridimensiona quindi di conseguenza molte volte noi capiamo che quello che noi pensiamo essere discernimento personale in realtà il più delle volte sono degli errori che si basano sulle nostre pseudo convinzioni quindi ancora una volta le figure sante ci sono d'aiuto l'intercessione dei santi ci sono d'aiuto santi che possono essere come san giovanni bosco in questo caso santo vivo comunque perché il salmo 15 ci aiuta nella comprensione per i santi sulla terra e tutto il mio amore si affrettano gli altri a costruire idoli io non spargerò le loro libagioni di sangue così appunto il salmo 15 che ci illustra la possibilità di poter capire che esistono questi santi sulla terra queste persone che hanno la capacità come poteva essere un san pio come potevano essere altri santi con doni abbastanza così certificati quindi abbiamo la capacità ancora una volta di capire che la nostra vita per quelli che molti pensano sia così un rapporto intimo col signore o solo un rapporto intimo col signore è vero tutto ciò è fondamentale tutto ciò laddove comunque l'anima inizia il suo percorso attraverso la visione dell'eucarestia attraverso il tabernacolo lì inizia un rapporto intimo ma quell'inizio non è che determini neanche la fine perché la fine appunto viene così sancita dal fatto di trovare persone che ci danno la possibilità di poter essere realmente parti integranti e frutti per il mondo certo è vero che noi più volte abbiamo così toccato l'argomento delle persone che si isolavano nel mondo i famosi eremiti che hanno dedicato la loro vita ad una comprensione limitata ma questo comunque non non presagisce dal fatto che anche gli eremiti i più grandi eremiti in ogni caso diventavano lo stesso delle figure che si relazionavano al mondo quindi santo antonio abate mi viene in mente che comunque ha avuto questo questo moto ma anche altre persone che noi abbiamo visto settimana scorsa che hanno voluto in qualche maniera ritirarsi dal mondo ma dal mondo non ti ritiri realmente hai solamente quella coscienza in cui ti spogli di tutti i beni per rientrare in una condizione di vita vissuta con i minimi con le minime cose quindi quel proprio con la sopravvivenza anzi non vivi più ma sopravvivi e questa cosa rientra in un fattore ascetico quindi di conseguenza non non guardiamo mai tutte queste figure di persone che facevano gli eremiti che erano in qualche maniera così esclusi dalla vita passavano il tempo solo a meditare o non erano utili per la società anzi ci mancherebbe altro la loro utilità era doppia perché poi alla fine sapevano anche loro che non si può spendere una vita così come fanno magari i monaci buddhisti che passano tutta la loro vita o passavano tutta la loro vita in meditazione davanti un palo pensando che comunque in qualche cosa potesse maturare o migliorare di loro stessi ma anche delle persone che circondavano invece la vita del cattolico la vita di colui che sa di essere frutto perché comunque è importante sempre qualsiasi cosa non si faccia lo si vede sempre in relazione sicuramente verso gesù ma assolutamente verso il fratello come è la maledizione del fico se il fico non produce frutto non ha neanche senso che esista quindi ancora una volta questa figura di persona che ha creato un sacco di istituti un sacco di beneficenza ha creato delle possibilità di 19 case famiglie 12 oratori 6 scuole 5 asili 4 conviti 3 scuole di religione cioè ha creato veramente una struttura degna degna di lode ma queste cose qui appunto arrivano laddove vi è una intercessione forte possiamo realizzare tutti i nostri sogni i nostri segni laddove appunto ci sono i disegni del signore il disegno del signore non lascia soli non lascia eremiti quindi è proprio nella volontà di dio che noi possiamo trovare la nostra il nostro compimento delle nostre opere attraverso veramente persone che ci possono aiutare quindi ancora di più oggi cerchiamo veramente quelle figure che possano essere utili per la nostra per la nostra vita e per la vita degli altri per sapere dove andare come andare e soprattutto dove arrivare ecco questo è molto importante quindi che san giovanni bosco ancora una volta possa aiutarvi a capire quale sia la vostra strada come aiutato la beata caterina morano possa aiutare anche voi e possa darvi tutta quella capacità di poter essere utili alla alla vostra famiglia a voi stessi ma soprattutto quelle persone che veramente sono nella necessità perché se noi non capiamo che i veri ricchi sono i poveri rimarremo poveri tutta la vita grazie